In arrivo a Piacenza, 98.000 euro per l'acquisto di nuovi defibrillatori, parte di un investimento di un milione e mezzo di euro. Si tratta delle risorse, infatti, che la Regione Emilia-Romagna ha stantiato complessivamente per dotare l'intero territorio di circa 1.000 defibrillatori automatici esterni, con l'obiettivo di rafforzare la rete di dispositivi salvavita e portare il totale dei DAE a oltre 10.000 unità entro il 2024. Attualmente in Emilia-Romagna sono già disponibili 8.385 defibrillatori esterni, con una crescita di oltre il 12% rispetto al 2023. La nostra Regione è tra quelle con il maggior numero di defibrillatori in rapporto alla popolazione, come sottolinea l'assessore regionale alle politiche per la salute Raffaele Donini. Ma la Regione ha chiesto alle ASLE di individuare le aree dove introdurre un migliaio di nuovi defibrillatori da Piacenza a Rimini, considerando i tempi di arrivo dei mezzi di soccorso e la densità abitativa delle varie zone. I fondi verranno distribuiti proporzionalmente tra le varie aree territoriali. L'obiettivo è garantire che i DAE siano raggiungibili in pochi minuti, soprattutto nelle aree urbane, dove si prevede la presenza di almeno due defibrillatori per ogni chilometro quadrato.